Gare d'appalto per 80 milioni di euro, ben più degli anni precedenti, malgrado i tagli imposti dal governo in termini di fondi di risorse umane. E' questo, in sintesi, il bilancio del primo anno di vita della città metropolitana di Napoli, tracciato dal sindaco metropolitano Luigi De Magistris, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sala Marella Cirillo di Piazza Matteotti. 43 milioni per opere di edilizia scolastica contro i 3 nel 2014 e il 15 nel 2013, in particolare 12 milioni e mezzo per la riqualificazione dell'area Ex Capalc, situata da fuori Grotto e Bagnoli, che vedrà la nascita dopo 30 anni di una sede scolastica di circa 100 aule con annessi in pianti sportivi capace di ospitare 2.000 alunni. 25 milioni invece per la rete viaria, per cui nel 2014 erano state bandite gare per 4 milioni e per 7 nel 2013, 3 milioni e mezzo per l'ambiente contro i 2,2 e l'1,1 rispettivamente nel 2014 e nel 2013, con interventi per l'incremento della raccolta differenziata, la riduzione dei rifiuti e il ricorso di energie alternative. E' tutto questo malgrado di 80 milioni che a vario titolo la città metropolitana ha dovuto erogare a favore del Governo centrale e l'obbligo di ridurre il personale del 30%, nonostante il quale, grazie all'applicazione della legge Prefornero, si è riusciti a mantenere il colpo di Polizia Provinciale che ha condotto, tra l'altro, circa 200 indagini per delega della Procura della Repubblica con 100 verbale e 100 esposti, oltre all'intensa attività di contrasto al triste fenomeno della terra dei fuchi con 500 pattugliamenti, 50 sequesti, 120 notizie di leato. Nonostante il Governo abbiamo raggiunto dei risultati che non si vedevano al dopo terremoto, soltanto nel dopo terremoto c'era il fiume di denaro che la politica in parte si è mangiato, in gran parte. Oggi noi investiamo con cifre che abbiamo dato in conferenza stampa, che sono fotografie chiare, edilizia scolastica, assi viari, dissesto idrogeologico, coste, sociale e cultura addirittura che erano state tagliate dalla del Rio. Credo che questo è frutto di un impegno serissimo di tutto il personale della città metropolitana, un utilizzo oculato della finanza pubblica e un'interpretazione corretta delle maglie rigide che strangolano della finanza nazionale. Poi lo sappiamo che ormai i governi abbandonano i sindaci al loro destino, anzi sono i sindaci e le città che finanziano il Governo, esattamente il contrario, quindi questa è una grande battaglia che portiamo avanti. Certo c'è molto rammarico nel vedere che una riforma così importante sia stata lasciata al destino delle comunità senza che il Governo facesse nulla e quindi rimangiandosi tutte le promesse del 2014, ormai abbiamo capito che là fanno molte promesse e molta propaganda. Una città metropolitana quindi che si candida ad essere ente intermedio per la gestione diretta dei fondi dell'Unione Europea. Io da sempre sono convinto, da quando facevo il parlamentare europeo, adesso da sindaco di Napoli e sindaco della città metropolitana, che i fondi europei debbano andare soprattutto direttamente alle grandi aree urbane, alle città. Questa è una sfida che Bruxelles condivide, c'è un po' di resistenza, anche comprensibile, però va scardinata questa resistenza. Ma non lo dico in modo polemico, credo le regioni debbano fare una programmazione di carattere generale, ma i fondi europei debbano andare direttamente alle città, in modo da evitare la vergogna che sono restituiti indietro, vengono dati alle città con un ritardo incredibile e noi sindaci dobbiamo fare la corsa contro il tempo per spenderli fino all'ultimo centesimo. Alla fine del mese di dicembre il Consiglio metropolitano non ha proceduto alla ratifica di alcune variazioni di bilancio, che avrebbero consentito l'utilizzo di ulteriori 15 milioni di euro per la raccolta differenziata, per interventi sulle coste contro l'abusivismo di inizio e per il teatro stabile di Napoli. Non è colpa dei sindaci che si perdono alcuni fondi, si sono persi provvisoriamente dei fondi per una parte dei consiglieri metropolitani che hanno deciso di disertare facendo perdere dei fondi ai comuni per le compostiere e la raccolta differenziata, ma noi li serveremo comunque per chi ho già dato mandato di trovare la soluzione da qui a breve per ridare, però è triste, devo essere sincero, è triste vedere alcuni consiglieri metropolitani che per interessi di parte non fanno un interesse collettivo, è stata una pagina triste ma siamo abituati a vedere una parte della politica triste, vecchia o riciclata.